Chiedeva aiuto, urlava? Eh sì, chiedeva aiuto, come fosse caduta, però non so dire altro, erano le 7.05. Quindi presto. Ma gli era capitato già in passato i sentiti di urlare? No, assolutamente, non hanno mai dedicato, bravissime persone, educatissime, insospettabili. Lei vive qui da tanto, li conosce bene loro? Avevano 25 anni questo qua, sì, sì. E loro da sempre pure? Loro da sempre, sì. E non li ha mai sentiti litigare? No, no, mai, mai. E dopo che ha sentito che chiedeva aiuto, che è successo? Eh niente, io ho chiamato lui i soccorsi. Ok. Ha sentito quindi una voce femminile che chiedeva aiuto? Sì, sì, questo. Solo questo non ha sentito, ecco, altro prima? No, 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 assolutamente no. Lui niente? No, no, no. Però il marito era in casa? Eh, sinceramente no. Hanno figli? Sì, sì, va bene. E da una coppia anziana, di persone anziane? Beh sì, non so fino a che, sì, va bene, più o meno? Fissamente giovani. La signorale, l'ha detto, la conosce, insomma, se ce la può un po' a descrivere? Una bravissima signora, gentile, educata. Anche il marito, gentile, educata. Grazie. Grazie.